Il 2 aprile è la giornata mondiale dell'autismo, una malattia che resta ancora molto sconosciuta. Chi segue le persone affette da autismo, genitori, medici, educatori, si trovano di fronte a tanti ostacoli perché l'autismo in alcuni casi è ancora un tabù. Come ci spiega Antonia Guidolin, referente della cooperativa Padovana Il Volo, mamma di un ragazzo che soffre di autismo. Sono nove anni che si è cominciato a parlare, ogni anno un po' di più, un po' di più, ma strada è ancora molto e molto lunga. Quali sono gli ostacoli principali che si incontrano? Perché bisogna lavorare tante ore con questi ragazzi per poter avere dei miglioramenti e portarli all'autonomia e a un comportamento che si è accettato. Purtroppo le famiglie si stanno snervando completamente. Antonia Guidolin lancia un appello alle istituzioni al momento accolto dal Comune di Cittadella. Abbiamo bisogno di tutti i cittadini, se vogliamo un domani, avere meno spese nel sociale. Tra i familiari che si trovano ad affrontare una situazione del genere c'è molta paura. Siccome la strada è molto lunga e faticosa, e tanti che non hanno le possibilità, questa è la cosa principale perché se ognuno avesse la possibilità, penso che nessun genitore si tirerebbe indietro. Si può dare qualche numero delle persone che soffrono di autismo nella nostra zona? Allora, nella zona qui di Padova, io parlo sempre della provincia di Padova, dovrebbero essere sulle 800-900, anche di più. Si parla in Italia, ma che non si hanno ancora i numeri esatti, su 500 mila. In Europa sui 5 milioni. In Italia sono uno ogni 88, ma si parla che fra 5 anni saranno uno ogni 32 bambini. Quindi è un fenomeno in aumento? In aumento, moltissimo.